Dylan Dog speciale numero 36, il progetto Hicks Wabalabadabdabe bentornati su No Mamamazzo e bentornati nella rubrica Fumetti e nella rubrica Bonelli, nella rubrica Dylan Dog Continuiamo a parlare dell'indagatore dell'incubo Se mi seguite sapete che io solitamente non parlo dello speciale perché lo speciale riguarda il pianeta dei morti che è una saga che non ho letto dall'inizio e non ho mai voluto recuperare Lo so, lo so che a mani basse è forse attualmente la saga più bella di Dylan Dog la testata più bella di Dylan Dog, però pigliatevela questa cosa Ho dei defici, a me non piacciono le apocalissi zombie Faccio davvero poche eccezioni, so che Dylan sarebbe una fantastica eccezione ma a mio tempo recupererò anche quella Ma parliamo del progetto Hicks Perché ho preso proprio questo Dylan Dog speciale? Ovviamente perché è stato pubblicizzato in una maniera tale che mi sono quasi visto costretto, tra virgolette, a prenderlo Mi sono visto costretto a prenderlo perché potrebbe essere una pietra migliare per il futuro di Dylan Dog Cosa succede a Dylan Dog? Cerchiamo di capirlo insieme Prima di cominciare, se ancora non lo avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale di mettere un bel mi piace o non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri Che vi frega di condividere il video con tutte le persone che hanno un fratello che sa mesmerizzare le persone e di commentare qui sotto con quello che venne parso di questo video, di questo fumetto e di tutto quello che è stato detto a riguardo Seguitemi anche sugli altri miei social, tra cui Instagram e Twitch Vi ricordo che su Twitch questa sera ci sarà una live insieme a Luca DJ Pelati i fumetti, Kuro del canale di Kuro dove appunto parleremo live di questa cosa Parleremo dei Dylan Dog, di questo speciale e dei futuri Dylan Dog che dovranno dare vita al ritorno alle origini, per così dire Vi confesso che c'è un nemico di Dylan Dog che io ho sempre trovato molto affascinante ma di cui non mi ricordavo assolutamente il nome e tutte le volte che lo cercavo nei vari siti mi trovavo un altro personaggio che non era il personaggio che intendevo io Questo numero finalmente mi ha svelato una cosa Ci sono ben due Professor Hicks oltre a quello degli X-Men C'è quello di Inverari o Inverari quello che ha della zona del crepuscolo del ritorno al crepuscolo che tra l'altro vi consiglio caldamente se li avete a casa di leggerli prima di leggere questo albo e poi c'è un altro che è quello del General Hospital che crea i suoi mostriciattoli quello che abbiamo visto anche se non sbaglio nel soft reboot della saga 666 lo abbiamo visto forse anche nel Morbo M non ricordo comunque è una presenza costante quello è il vero nemico a cui mi riferivo io ed è davvero un personaggio molto molto interessante si scopre da questo speciale che questi due Hicks hanno lo stesso cognome perché? perché sono fratelli seppur molto diversi così diversi che uno in realtà è un fratello adottivo perché scopriamo che in realtà sono molto molto disturbati quindi ognuno a suo modo uno ha subito le ingiustizie della seconda guerra mondiale provenendo da una famiglia ebrea per questo che ha il cognome X X scritto H-I-C-K-S ma che si sente anche come X come Malcolm X cioè ha perso il suo cognome durante la guerra per non farsi perseguitare in quanto ebreo e mentre l'altro fratello che è stato adottato niente po' di meno è che il clone di uno scienziato nazista quindi c'è anche questa diciamo questo amore e odio tra i due fratelli amore perché sono fratelli e hanno moltissimo in comune e odio perché uno è responsabile della persecuzione dell'altro questo fumetto è più la storia appunto di questi due fratelli e di quello che vogliono progettare insieme che non tanto una storia di Dylan Dog che però viene comunque coinvolto in tutto questo ambaradam in un numero che ti farà sentire ubriaco perché ci sono dei salti temporali senza spiegazione è una cosa che abbiamo visto anche nella zona del crepuscolo e in ritorno al crepuscolo però qua sembrano... sono molto più forti ti sembra davvero di aver perso dei pezzi per strada ma è proprio una scelta dell'autore le parti con Dylan Dog invece sono volutamente una citazione dei numeri che continuano a nominare la zona del crepuscolo e il ritorno al crepuscolo questo perché? perché già il ritorno al crepuscolo è quasi un reboot della zona del crepuscolo se voi li leggete uno dopo l'altro e li aprite, li sfogliate uno accanto all'altro vi renderete conto di come le tavole molte tavole, quella iniziale quelle dove si parla di Edgar Allan Poe sono praticamente le stesse toccano gli stessi argomenti e la seconda, la zona del crepuscolo coinvolge il secondo Dottor X e la intreccia alla prima e qua finalmente viene spiegato tutto viene reintrodotta anche di nuovo Opal un personaggio di Opal e si spiega che cosa ha a che fare tutto questo la presenza di nuovo di Opal con i due professori in pratica scopriamo che il professor Hicks quello nazista continua a cercare di clonare se stesso in mille modi con delle tecniche che rasentano appunto il sovrannaturale perché non c'è di mezzo solo la clonazione ma anche la sua anima che va in altri corpi e ricorda la sua stessa vita Opal è uno di questi cloni non è la stessa Opal della zona del crepuscolo è un'altra Opal anche perché quella Opal aveva l'aspetto di Morgana grazie all'altro Dottor X quello che le aveva ricostruito il volto tutti i cloni infatti del Dottor X quello nazista hanno questa malattia che finalmente viene chiamata con il suo nome con un cancro degenerativo ma che in realtà lui sa che è una degenerazione dovuta ai suoi esperimenti che trasforma lentamente le persone in mostri nel senso che si atrofizzano le carni e sembrano degli zombie di conseguenza ed era per questo che il professor Hicks nazista ha voluto mandare la prima Opal nella zona del crepuscolo a Inverari per farla curare dall'altro professor Hicks e ridarle un aspetto umano l'altro professor Hicks le ha dato poi l'aspetto di Morgana questo perché è così perché a Sclavi gli girava il cazzo così in quel momento ma narrativamente era perché ha preso dai ricordi di Dylan un volto che lui potesse amare qui abbiamo una nuova Opal che ha un aspetto diametralmente opposto non è mora è bionda non è riccia è liscia non ricorda assolutamente Morgana e va bene così finalmente i due fratelli Hicks si sono ritrovati e pare che stiano collaborando appunto per portare avanti il loro grande progetto ovvero quello di mesmerizzare tutta l'umanità in modo che tutta l'umanità tutta la terra sia una grande immensa zona del crepuscolo dove nessuno va avanti nessuno vive nessuno muore ma tutti sono cristallizzati in un loop noiosissimo perché vogliono tenere troppo stretta la vita tra le loro grinfie questo è anche un po' il messaggio delle prime due zone del crepuscolo mi piace come il messaggio delle zone del crepuscolo resti invariato ma si entri proprio al meglio nella mitologia di questa di questa storia è una mitologia dilaniata ma che è anche una sua mitologia un piccolo microcosmo all'interno della mitologia di Dylan e se questo dovesse diventare il nuovo corso se dovesse diventare questa una una stretta continuity di Dylan Dog che è inesorabilmente legato alla zona del crepuscolo a tutti i progetti del professor X il professor X che diventa la nuova vera nemesi di Dylan al posto di Xabaraz che a me non piace tanto di cappello magari ci sia ci fosse questo questo ritorno alle origini vi ricordo che poi alla fine della zona del crepuscolo o del ritorno al crepuscolo non ricordo adesso sto facendo confusione Dylan Dog medesimo viene mesmerizzato e ora è vero che come dice Recchioni ogni storia racconta di un Dylan Dog a sé ogni storia di Dylan Dog è un universo a parte quindi non è detto che il Dylan Dog del numero successivo sia ancora quello mesmerizzato ma se vogliamo vederla invece come una sorta di continuità il Dylan Dog che abbiamo letto dal ritorno al crepuscolo in poi in teoria è un Dylan Dog mesmerizzato un Dylan Dog non morto e sarebbe e spiegherebbe molte cose anche se toglierebbe un po' di bellezza al personaggio ma perché ho voluto ricordarvi questa cosa perché anche in questo numero pare che Dylan Dog venga mesmerizzato almeno un paio di volte in questa storia per poi appunto mostrarci l'ennesimo salto temporale dove non capiamo cosa è sogno e cosa è veglia che è un altro concetto dei due numeri che continuo a citare devo dire che il numero di per sé non è un capolavoro è molto confuso ma il capolavoro sta proprio nel prendere a piene mani dalle storie precedenti e creare una storia che ha una continuità tutta sua e rende il tutto credibile in un certo senso grottesco ed è questa la forza di questo speciale sono davvero curioso di vedere cosa succederà nel Colorfest e nei numeri correggetemi se sbaglio 435 36 e 37 che dovrebbero coinvolgere tutto questo microcosmo e andare poi a portarci nella nuova realtà dilaniata secondo me potrebbero mostrarci che uno di questi dylan non so se quello del soft reboot o il vecchio dylan sono stati mesmerizzati e si sgretoleranno e ritornerà non lo so il dylan originale insomma potrebbero esserci due dylan appunto ma uno dei due si sgretolerà perché si sgretolerà la zona del crepuscolo e ci sarà solo e unicamente il nuovo dylan con i ricordi della storia classica quella dall'1 al al 399 io presumo facciano una cosa fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo progetto x di questi prossimi numeri che usciranno le vostre aspettative scrivetemele qua sotto oppure vi aspetto in chat questa sera su twitch e ognuno racconterà la propria io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a qui con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video e vi ricordo che io sarò a lucca tutti i 5 giorni se volete ci possiamo incontrare per caso in giro vi dirò come sarò vestito perché molto probabilmente potrei essere in cosplay però seguitemi su instagram e così vedrete dove sono e come sono vestito grazie ancora arrivederci grazie a tutti grazie a tutti